C'è di San Silvestro, Caserma di Carabinieri, l'appuntato fa marescia, marescia mi fa uscire torno domani alle 6 prima che monto il turno, vabbè ma abbiamo organizzato qui il cenone e marescia lo sai come per la fidanzata, sai com'è, chi non fa l'ultimo dell'anno non fa tutto l'anno, vabbè ma domani alle 6 devi stare qui, vabbè passo ai 10 minuti arriva un altro appuntato, io veramente vorrei andare con la mia festa ma abbiamo la festa qui, però sai com'è, chi non fa il primo dell'anno non fa tutto l'anno, vabbè vabbè, insomma 4-5 appuntato, fanno così ma la mattina arriva alle 6 e non si presenta nessuno, le 6-10-20 si presenta il primo ma tu cazzo sei stato per il maresciallo, devi montare la 6-8 maresciallo, ma sono stato a casa della mia ragazza abbiamo fatto lo stesso, mi sono addormentato, non ti sei svegliato, no mi sono svegliato solo che la macchia non partiva, sono andato da un mio cugino, mi ha prestato il cavallo galoppa galoppa galoppa, sono arrivata alla prima curva, quella curva che abbiamo qui sotto il paese scelato il cavallo è morto, ma vado a cambiare, vado a cambiare, ma vedi che scusa basta 10 minuti intorno al secondo, ma tu cazzo sei stato che sei fatto, devi montare maresciallo sono messo a fare sesso con la mia ragazza, mi sono addormentato la mattina non mi è partita la macchina e mi sono fatto prestare un cavallo anche io, corri 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 corri, sono andato a questa curva, scivolo il cavallo, quella curva che abbiamo vuole il cavallo vicino all'albero, ma tutti la stessa scusa, ma vado a cambiare arriva il terzo, la stessa curva, il quarto, la stessa curva, il quinto, come arriva ma dove cazzo sei stato, sono le 7, maresciallo, fermati, che ti indovino tutto io scommetto che tu hai fatto sesso con la tua ragazza, ma sì maresciallo, e ti sei addormentato sì, però se lo so, ti sei svegliato, è vero, sì, non ti partiva la macchina, ma c'è ma lì, indovino, e poi hai preso il cavallo, no, perché hai preso? Ho preso il motorino di mio cugino, ma come cazzo che hai fatto tardi arrivare? Maresciallo, c'è il presidente la curva qua sotto? Sì, stavi chiedendo un cavallo, ho sbattuto il tuo motore